Musica Ben trovati dalla redazione di Telebari e Radio Bari. In primo piano occupiamoci del bilancio di previsione per il prossimo anno del Comune di Bari. 35 milioni di euro in meno per il 2012 che obbligheranno l'ente a ricorrere a misure impopolari. Oggi la conferenza cittadina. Ce ne parla Silvia Dipinto. Non è affatto un documento chiuso la relazione al bilancio di previsione annuale 2012 presentata questa mattina in assemblea dall'assessore Gianni Giannini. Impossibile fare i conti se prima non si hanno notizie certe dal nuovo governo Monti che potrebbe varare a stretto giro una ulteriore manovra da 20 miliardi di euro. La situazione è caotica, dichiara Giannini. Una raffica di provvedimenti governativi hanno sottratto alle casse comunali 35 milioni di euro per il 2012, 23 di tagli ai trasferimenti e altri 12 a causa dell'inasprimento del patto di stabilità. E allora l'amministrazione comunale non può operare in solitudine, ma deve concertare con organizzazioni sindacali, rappresentanze di categoria e tutti i partiti politici soluzioni condivise che rendano sostenibili gli inevitabili sacrifici da chiedere ai cittadini baresi. Contenimento e razionalizzazione della spesa, revisione del sistema del welfare, con possibile riorganizzazione dei servizi erogati, individuando le reali fasce di bisogno, potrebbero essere alcune delle risposte immediate per evitare misure impopolari come l'inasprimento della pressione tributaria e la revisione delle tariffe. Sentiamo l'assessore Giannini. Questo cercheremo di contenerlo assolutamente in misura sostenibile, fino a che ci sarà consentito dai provvedimenti nazionali, e per far questo incrementeremo la lotta all'evasione fiscale che già nel 2011 ha dato dei risultati straordinari. Sono scesi in Piazza Moro oggi i dipendenti della Servireil che dall'11 dicembre resteranno senza lavoro a causa dei tagli sul servizio ferroviario notturno di Ferrovie dello Stato. I lavoratori chiedono la ricollocazione in altri rami dell'azienda. I dettagli della protesta saranno trasmessi nell'edizione serale del nostro telegiornale. Intanto, dopo la lettera che il governatore ha scritto al ministro Passera sul rischio isolamento della Puglia dopo i tagli operati dalle ferrovie dello Stato, abbiamo chiesto al presidente Vendola se c'è stata una risposta da Roma. L'intervista di Alessandra Bucci. Presidente, adesso c'è da vincere un'altra battaglia, che è quella su Italia e i trasporti. Qualche notizia da Roma, dal ministro? Siamo in attesa di avere notizie. L'assessore Minervini sta presidiando gli uffici ministeriali. Noi abbiamo in questo momento, fortunatamente, anche una mobilitazione dei cittadini. Crediamo che non si possa immaginare che le ferrovie abbandonino il sud, che Trenitalia giri la testa rispetto alle esigenze della nostra regione, perché questo è un colpo al cuore della nostra economia e dei diritti dei cittadini pugliesi. Oggi posa della prima pietra della nuova sede del Consiglio regionale. Vediamo il servizio. Il cemento che fissa la posa della prima pietra della nuova sede del Consiglio regionale salda anche la proficua collaborazione tra centro-destra e centro-sinistra. È una giornata storica per il governo Vendola e per il suo predecessore Fitto, col quale è iniziato il percorso che ha portato oggi all'inaugurazione dei lavori aggiudicati da Lati, Devar, Guastamacche e Monsus per circa 40 milioni di euro, con un ribasso del 41,7%. Sentiamo il commento del presidente Vendola. L'amministrazione Fitto ha messo in piedi questo progetto fondamentale per noi. L'amministrazione Vendola avvia la conclusione, nel senso che tra 24 mesi dovremo inaugurare l'insieme della struttura, Consiglio regionale e uffici della Regione. Cioè cambia completamente il rapporto tra Regione Puglia e cittadini e i lavoratori della Regione Puglia non dovranno più vivere in condizioni di assoluto degrado. E noi potremo organizzare e controllare meglio il lavoro di tutti. Mi pare davvero una notizia straordinaria. L'opera sorgerà su 125 mila metri quadri, 7 mila di superficie coperta. Pronta in due anni garantirà un risparmio per le casse regionali rispetto ai canoni di locazione che la Regione oggi paga per la sede degli uffici, come ha spiegato l'assessore alle opere pubbliche Fabiano Amati. Da una contabilità provvisoria la Regione Puglia risparmierà non meno di 3 milioni e 500 mila euro l'anno di canoni di locazione. Questa è un'operazione importante in questo senso perché testimonia la capacità della politica di autoriformarsi e di questi tempi dare l'esempio è fondamentale. E torniamo ad occuparci dei fratellini di Gravina Rosa Carlucci, mamma di Ciccio Ettore, ha chiesto oggi la riapertura delle indagini archiviate tempo fa dalla magistratura barese. Ha detto ai cronisti in procura di aver svolto indagini con un consulente, secondo la donna Francesco e Salvatore Pappalardi, precipitarono nella cisterna nella quale furono trovati morti 20 mesi dopo la scomparsa durante una prova di coraggio a cui furono sottoposti da altri 5 ragazzi, ora maggiorenni. Voltiamo pagina, 300 giorni per restituire alla città un museo archeologico chiuso da quasi 20 anni. Al via domani i lavori di ristrutturazione del complesso di Santa Scolastica. Il servizio. Non si posa ma si toglie la prima pietra che separa Santa Scolastica dal mare per dare il via ai lavori che in 300 giorni restituiranno alla città un museo archeologico chiuso dal 1994. 1.900.000 euro messi a disposizione dalla regione, in sinergia con la provincia di Bari, per il primo lotto del progetto di restauro del complesso di Santa Scolastica e del parco archeologico di San Pietro. Un sogno rimasto nel cassetto per 20 anni e che oggi vede la sua realizzazione grazie alla competenza della direzione regionale per i beni culturali. Partiranno subito i lavori di completamento dello scavo di San Pietro assicura l'assessore regionale all'assetto del territorio Angela Barbanente che permetteranno immediatamente ai cittadini baresi di riscoprire la preistoria attraverso l'archeologia. Sentiamo le parole della Barbanente. È un primo stadio però particolarmente significativo perché porterà al completamento dello scavo che è fondamentale prima di ragionare su qualsiasi ipotesi di ampliamento. Nel museo troveranno posto gli oltre 30.000 reperti di proprietà della provincia, oggi chiusi nei depositi, insieme a collezioni statali. Subito il percorso Artway, dal mare alla città vecchia e poi ristoranti, caffè, aria, wifi e un bookshop come spiega il vicepresidente della provincia, Nuccio Altieri. Apriremo l'ingresso dal lato del porto in modo tale da aprire la nostra città ai 700.000 croceristi che saranno accolti nel posto più bello di Bari. Natale a Bari con i tuoi e insieme a noi. Presentato questa mattina il calendario di appuntamenti gratuiti che aglieteranno le festività di grandi e piccoli. Vediamo. Un bambino, un po' San Nicola, un po' Babbo Natale con un cappello da vescovo troppo grande che cade a coprire gli occhi. E Nicolino, la mascotte scelta dal comune per rappresentare Natale a Bari con i tuoi e insieme a noi. Oltre 50 eventi ospitati dai servizi territoriali, dei centri di ascolto delle famiglie e dei centri aperti polivalenti per i minori finanziati dalla legge 285. Spettacoli, giochi, laboratori, concerti, tutti gratuiti distribuiti nelle nuove circoscrizioni a partire dal 2 dicembre condanzando tra le fiabe nel Caf Cap di via Ettore Fiera Mosca e chiusura in grande stile il 6 gennaio con una, due, mille befane nel parco Don Tonino Bello di Poggio Franco. Più di un mese di appuntamenti che vedranno coinvolti tra gli altri Nico Salatino e il gran teatrino di Pulcinella alla baracca di Monza. Consultabili su Facebook, Twitter e su un sito dedicato www.nataleabari.com Un Natale a costo zero ha spiegato l'assessore al welfare Ludovico Abaticchio visto che gli educatori dei centri hanno messo a disposizione ore di straordinario gratuite e l'assessorato con il coordinamento della cooperativa Progetto Città ha semplicemente strutturato un calendario unico di iniziative già in programma. Sentiamo l'assessore Ludovico Abaticchio. Mettere insieme tutto quello che già esisteva quindi a costo zero a costo zero gestito in maniera un po' più ordinata e più equilibrata quindi permetterà a un bambino del San Paolo di andare a una festa di Poggio Franco ad uno di Enzitetto di andare a uno di Apigia. Riparte domani l'iniziativa della PUC Puglia University Card l'iniziativa promossa nel 2010 da Adisu, agenzia regionale per il diritto allo studio universitario per fornire agli studenti che utilizzano i suoi servizi sconti sugli spettacoli. La Card, in forma a una nota è realizzata in convenzione con il Teatro Pubblico Pugliese e l'Agis Anec di Puglia e Basilicata. L'edizione di quest'anno prevede 10 ticket complessivi che prevedono un contributo ad Isu di 3 euro per il cinema e di 4 per teatro e musica. Ed in chiusura diamo uno sguardo alle previsioni del tempo cielo parzialmente nuvoloso temperature con valori compresi tra i 7 e i 15 gradi venti deboli, mari poco mossi. E vi ricordo i nostri siti internet telebari.it e radiobari.net E' tutto, grazie per averci seguito Arrivederci.